Ieri sera la Commissione Comunale, convocata per l'occasione, ha limato gli ultimi spigoli. Il regolamento sul decoro urbano in centro storico, stilato quattro mesi fa dal lavoro dell'assessora all'innovazione Francesca Frenquellucci, ha trovato un'intesa fra tutte le parti coinvolte. E sostanzialmente l'ha trovata su un punto, quello che ora prevede che non sarà più consentita l'apertura di nuove attività d'asporto di cibo, sia locale che etnico, sul cardo e sul decumano. Vale a dire in piazza, in via Branca, via Rossini, via San Francesco e Corso 11 settembre. Le attività esistenti di questo tipo restano, ma con accorgimenti appunto in termini di decoro. Per le nuove attività che riguardano il codice Ateco dell'asporto, e si intende food, si intende, non so, ad esempio la piadineria, la frigitoria, ma nel resto del centro storico possono aprire, quindi parliamo solamente del cardo e del decumano, ma nelle altre vie secondarie possono aprire, questo anche perché andiamo ad allungare la passeggiata sia del turista ma anche del cittadino pesarese che può trovare queste bontà, comunque sia del territorio o comunque anche straniere, nelle vie secondarie. Cioè non è cambiato niente, è stato solamente elevato il fatto che dove c'era una nota che specificava che comunque si faceva un'eccezione per i prodotti locali. Questa cosa non è stata ben vista, ma io l'ho accolta da subito, da gennaio, dalla richiesta della maggioranza, perché appunto non volevo creare assolutamente nessun tipo di probleme. Però comunque è un regolamento importante, come ci stiamo muovendo su tutto quello che è il DEORS, cioè l'arredo esterno che ha un regolamento e deve essere adeguato, quindi le attività si devono adeguare, daremo qualche mese di tempo per chi ha già, ma i nuovi che arriveranno dovranno subito adeguarsi al regolamento che era stato votato con il Consiglio precedente che era nel 2019. Quindi è fondamentale tenere la linea, anche perché ricordiamo che Pesaro è 2024, il capitale della cultura, quindi dobbiamo crearlo questo salotto a cielo aperto nel centro storico. Per ratificare l'accordo non resta ora che attendere l'approvazione in Consiglio Comunale fissata al 20 di giugno. È stato fatto un grande lavoro dove anche la maggioranza in questi mesi diciamo ci siamo confrontati e quindi è stato anche migliorato. Con i consiglieri ringrazio il Presidente della Commissione Lorenzo Lugli che ha appunto accolto e ha voluto avere un confronto anche con la minoranza. È un regolamento sicuramente importante per l'attività e lo sviluppo del centro storico, ma soprattutto anche punta ad aiutare le nuove imprese, i giovani e le donne. C'è un articolo proprio dedicato a dei bandi che farà il Comune per aiutare le nuove imprese che apriranno nel nostro centro storico. Quello che è importante pensare è che il lavoro è stato fatto inizialmente con le associazioni di categorie e poi condiviso con i consiglieri tutti e devo anche dire che il Consiglio di quartiere è stato di grande aiuto perché in questi mesi comunque ci ha fatto notare anche delle cose che in centro andavano modificate e migliorate.